Ciao, sono Susi, lavoro nella farmacia Mavita Mordasini di Sant'Antonino. Sono al primo anno come assistente di farmacia come apprendista e oggi vi mostrerò la mia giornata tipo in farmacia. In questa professione si svolgono diversi lavori, come la vendita al banco, le preparazioni e l'entrata a merce. A scuola è importante l'interesse per la medicina, mentre in farmacia è importante essere accoglienti e comprensivi con i clienti. In laboratorio preparo creme specifiche che vengono richieste dai diversi clienti, per esempio le creme per gli eczemi. Offriamo diversi servizi, come la glicemia e la misurazione delle calze compressive. A me di questa professione piace il contatto con la clientela e il poter aiutare i clienti. Spero che la mia giornata lavorativa vi sia piaciuta, se è così allora inoltre c'è una domanda. Spero che la mia giornata lavorativa vi sia piaciuta per la clientela e il poter aiutare i clienti. Spero che la mia giornata lavorativa vi sia piaciuta per la clientela e il poter aiutare i clienti.